E' partita la campagna vaccinale anche nell'Alto Casertano, riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Sono i pediatri di famiglia che quotidianamente sottopongono i ragazzi al vaccino anti-Covid. Noi siamo andati a trovarne uno, il dottor Emilio Gannotta, e sentite che cosa ci ha detto. Possiamo dire che la campagna vaccinale è partita in modo spedito anche dalle nostre parti. Sì, sì, sì. Per fortuna con un'intensa attività sindacale, grazie allo spirito di collaborazione dell'azienda, e grazie anche alla collaborazione del direttore del distretto, il dottor Orsi, siamo riusciti a portare i vaccini sul territorio. E per me, che sono anche un rappresentante istituzionale, era un dovere quello di agevolare i cittadini dell'Alto Casertano e di agevolare ovviamente da professionista i miei pazienti. E quindi siamo partiti con le vaccinazioni. A tanto riguardo mi preme ringraziare la dottoressa Rapa, farmacista del Lab vaccinale, che con grande disponibilità umana e professionale sta collaborando con noi, perché ci sta preparando le singole dosi vaccinali. Le adesioni sono tante? Sì, no, le adesioni sono tante. Dico, a verità sto incontrando grande senso di responsabilità, grande desiderio di uscire da questa pandemia che ci sta preoccupando tutti e che sta condizionando anni per noi importanti, ma soprattutto per i bambini sta condizionando gli anni più belli della vita. Ci sono perplessità da parte dei genitori? No, no, non sto incontrando grandi perplessità. Ovviamente qualche dubbio c'è. Certamente bisogna avere anche da parte del professionista disponibilità ad affrontare, diciamo sì, le perplessità e a dare risposte congrue. Io utilizzo molto i social. Per esempio, nel mio caso, sulla mia pagina Facebook, c'è un link importante del Bambin Gesù, che è un ospedale pediatrico, forse il più autorevole in campo nazionale, dove ci sono domande e risposte su tutti i dubbi che i pazienti e i genitori potrebbero avere. Qual è la fascia di età? La fascia di età è dai 5 anni appena compiuti fino al giorno prima del compimento del dodicesimo anno. Ci sono reazioni al vaccino? E se sì, quali sono? Allora, al momento, io potrei parlare con i dati della letteratura internazionale che ci dicono che il vaccino è assolutamente tranquillo. Però voglio aggiungere anche la mia esperienza personale. Finora ne ho praticato 90 e non ho avuto nessun caso di reazioni collaterali. In due battute, proprio siamo alla fine. Che cosa devono fare i genitori per sottoporre i figli alla vaccinazione? Molto semplicemente, devono contattare il proprio medico, laddove hanno dimestichezza con i sistemi informatici, con internet possono fare l'adesione sulla piattaforma regionale di Soresa, devono contattare il proprio medico e stabilire un appuntamento secondo l'organizzazione del medico. E tengo anche a specificare, e poiché in questo studio siamo in pediatria di gruppo, laddove i pazienti incontrassero difficoltà a raccordarsi col proprio medico oppure il proprio medico ancora non abbia un livello organizzativo adeguato per effettuare le vaccinazioni, possono contattare il sottoscritto via Messenger oppure via WhatsApp e possono fissare un appuntamento con il sottoscritto perché c'è la mia disponibilità.